Musica Sta facendo scalpore in città il coinvolgimento di Monsignor Paolo Piccoli in un giallo di cronaca. Monsignor Paolo Piccoli, infatti 51 anni, nativo di Verona, fino a un paio d'anni fa in servizio a Trieste, ha prestato servizio per tanti anni come parroco di Pizzoli, comune popoloso dell'Aquilano. Oggi Monsignor Piccoli risulta sotto inchiesta come possibile responsabile del giallo del seminario che sconvolse Trieste due anni fa, quando Monsignor Giuseppe Rocco, di 92 anni, fu trovato cadavere nella sua stanza nella casa del Clero. A riportare la notizia il quotidiano terrestino il Piccolo, ma subito ha fatto il giro della città dell'Aquila, dove Monsignor Piccoli è molto conosciuto. Inizialmente la morte di Monsignor Rocco, di 92 anni, era parza naturale, poi la svolta e l'apertura di un fascicolo a carico di gnoti da parte della Procura. Gli inquirenti, infatti, ad oggi stanno indagando per omicidio. Ucciso, come riscontrò in seguito il medico legale, dalla rottura di un piccolo osso in corrispondenza della carotide, che ne causò la morte. Soffocamento naturale o strangolamento dunque, le indagini a questo punto sembrano propendere per la seconda ipotesi, tanto che Don Piccoli, difeso da due avvocati, dovrà comparire il prossimo martedì 13 dicembre davanti al GUP Giorgio Nicoli, il giudice per l'udienza preliminare, chiamato a decidere a proposito della richiesta di rinvio a giudizio a suo carico davanti alla Corte d'Assise per l'ipotesi di reato di omicidio aggravato, formulata dal PM Tripani. Una svolta dovuta al fatto che una serie di piccole macchie di sangue trovate sotto il corpo di Don Rocco, riverso senza vita sul letto, appartengono senza ombra di dubbio al profilo genetico di Don Piccoli, come hanno attestato le analisi scientifiche dei RIS di Parma, che una volta accertato che quel sangue non era della vittima, hanno isolato un non ristretto elenco di DNA, soprattutto attraverso cosiddetti tamponi volontari, ovvero campioni di saliva resi dalle persone convocate dagli inquirenti. Il presunto assassino, in occasione di una delle deposizioni che l'hanno coinvolto, si sarebbe difeso sostenendo di essere affetto da una malattia dermatologica che gli provoca talvolta delle piccole emorragie anche alle mani e che il sangue si sarebbe potuto propagare nei paraggi del corpo senza vita di Don Rocco perché fu proprio lui l'accusato a impartirne la benedizione nel momento in cui venne trovato morto. Una spiegazione che però non viene ritenuta plausibile in sede investigativa, anche perché quelle macchioline sono state rinvenute appunto al di sotto del cadavere in determinati punti di difficile accessibilità, in occasione di un'estremensione, e non soltanto al di sopra o ai suoi lati. L'inchiesta non trascura anche che, nei giorni immediatamente precedenti alla morte di Don Rocco, dalla stanza di quest'ultimo sarebbero spariti alcuni oggetti sacri, o perlomeno di valore simbolico, riconducibili alla religione, una Madonna, un veliere e un cavallo. Simulacri di cui Don Rocco avrebbe denunciato in ambito ecclesiale la scomparsa, inserendo proprio Don Piccoli, che ha peraltro nel suo curriculum precedente d'inchiesta a proprio carico all'Aquila per furto di oggetti sacri, tra quelli che se ne sarebbero potuti impossessarsi, tanto che, al ridosso del 25 aprile, lo stesso presunto killer avrebbe ricevuto dalla direzione del seminario una lettera di richiamo. Le tre statue, la Madonna, il veliere e il cavallo, sarebbero ricomparse poi a stretto giro dopo l'omicidio nella stanza di Don Rocco. Proseguiamo con la cronaca. Un uomo di 74 anni è morto folgorato nel primo pomeriggio di ieri a Civitella Messerraimondo in provincia di Chieti, toccando un cavo della rete elettrica locale in Contrada Selva. Sul posto ovviamente sono intervenuti i vigili del fuoco di caso, i tecnici dell'Enel per verificare la linea. Enel ha confermato che non si trattava di persona a lavoro per conto dell'azienda, né autorizzata ad operare sulle linee elettriche. Andiamo avanti. Un incendio ha distrutto nelle prime ore del pomeriggio di Ferragosto un hotel di Spoltore, la città bianca. Il servizio di Francesca Romana Testi. Un incendio nel primo pomeriggio di ieri a Spoltore che ha creato non poche preoccupazioni a residenti e cittadini. L'hotel Città Bianca, situato in Viale Europa, si è visto bruciare tetto e sottotetto. Alla vista del fumo e del principio di incendio, tutti gli ospiti sono usciti fuori dalla struttura in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che appena giunti sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Spoltore e gli agenti della polizia locale. Durante l'intervento tre vigili hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e ad un primo esame i danni sarebbero ingenti. Nel frattempo lo stabile è stato dichiarato temporaneamente non agibile. È stato fissato per domani alle 11 l'inizio delle operazioni peritali per conoscere i motivi che hanno portato sabato 13 agosto alla morte di una donna 87enne mentre era ricoverata nell'ospedale di Sulmona. La procura del Tribunale sulmonese su sollecitazione dei parenti ha infatti avviato un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo affidando l'incarico di svolgere l'autopsia all'anatomo patologo Ildo Polidoro. L'accusa viene contestata a due medici del reparto di medicina. Il corredì scorso l'anziana era stata ricoverata in urologia per acettosi metabolica. Giovedì le sue condizioni sembravano migliorate ed era stata trasferita nel reparto di medicina. Il giorno successivo la figlia viene riferito dai medici che la donna è stato somministrato un calmante e la figlia ha preso da terzi che la madre durante la notte sarebbe rimasta incastrata nelle sbarre del letto. Nello stesso giorno la 87enne è stata sottoposta a TAC dalla quale è emersa una frattura alla base del collo. Interessato il reparto di neurocirurgia dell'ospedale San Salvatore all'Aquila che ha esaminato la situazione ha stabilito che la donna non poteva essere sottoposta a intervento chirurgico. L'87enne è morta il giorno successivo. Arrestato dagli uomini della polizia per due tentativi di furto un uomo di origini romene al quale era stato applicato un bracciale elettronico e che era agli arresti domiciliari. Giorgio Alessandri. Sarebbe dovuto stare a casa agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia il ladro di origini rumene che la notte tra il 13 e il 14 agosto è stato arrestato dagli uomini dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico in servizio di volante all'Aquila. Era passata la mezzanotte quando i poliziotti della volante hanno raggiunto il complesso Rottiglio Center per una segnalazione di una persona all'interno negli uffici dell'ex service ditta che avendo ricevuto il segnale di allarme ha subito avvisato il 113. Giunti immediatamente sul posto hanno notato uscire dallo stabile un uomo con un copritombino inghiso sulle spalle che, una volta scoperto, lo ha gettato a terra dileguandosi in direzione della SS-80. Durante l'attività di perlustrazione alla ricerca del fuggitivo il personale ha sorpreso l'uomo che con un oggetto metallico tentava di rompere una porta in vetro di un'altra attività commerciale. L'uomo, nuovamente scoperto, è scappato per la seconda volta e dopo un inseguimento è stato acciuffato. Negli uffici dell'ex service lo straniero aveva forzato e danneggiato la porta d'ingresso, l'impianto elettrico, il sistema d'allarme, alcuni computer e un condizionatore. In alcuni vani aveva messo tutto a soccuadro. Il rumeno è attualmente destinatario di una misura cautelare agli arresti domiciliari con l'applicazione di un braccialetto elettronico in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso lo scorso 18 aprile. Il soggetto è comunque noto agli uffici investigativi ed operativi della questura e delle altre forze dell'ordine territoriali per i numerosi pregiudizi di polizia a carico, quasi tutti riguardanti i reati contro il patrimonio riportati nella sua ormai lunga permanenza nel territorio aquilano. Voltiamo pagina ed ora ci occupiamo di sanità. Abruzzo sottilivelli Lea per quanto riguarda i posti letto dedicati agli anziani non autosufficienti. La regione ha quindi decretato di aggiungere 60 posti letto nella ASL Chieti-Lanciano-Vasto. La struttura commissariale della sanità per la regione Abruzzo ha autorizzato 60 nuovi posti letto da destinare a residenza protetta per anziani non autosufficienti nei presidi di Atessa, Casoli e Gissi. Il decreto è stato già predisposto e nei prossimi giorni sarà notificato alla ASL Lanciano-Vasto Chieti per i successivi adempimenti. Saranno attivati 20 posti letto in ciascuna struttura prevedendo anche la riconversione di alcuni presidi per garantire la copertura dei fabbisogni rimasti insoddisfatti. La carenza di residenze per anziani non autosufficienti sottolinea l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci rappresenta uno degli aspetti su cui si sta concentrando l'azione del governo regionale. In Abruzzo infatti ha oggi la dotazione di posti letto dedicati e pari a 5,56 ogni 1.000 abitanti a fronte di un valore minimo riferito da ILEA di 10. Da qui la necessità di prevedere un aumento consistente per centrare l'obiettivo del fabbisogno stimato in 2.708 posti letto. I 60 posti previsti ad Atessa, Casoli e Gissi, si vanno ad aggiungere ad altri 20 già attivati nel presidio sanitario di Guardia Grele. Per il momento, continua Paolucci, la regione si sta occupando delle strutture pubbliche mentre successivamente saranno valutate anche le proposte presentate dai privati e già trasmesse alle asle della regione Abruzzo, così da soddisfare interamente il fabbisogno registrato sul territorio. Una svastica disegnata sopra i manifesti del Partito Democratico. A Pescara continua la battaglia a suon di locandine tra movimenti di estrema destra e Partito Democratico. Sentiamo. Una guerra colpì di manifesti. Tutto inizia a Pescara quando l'amministrazione comunale trova fisse locandine sul fascismo. Immediatamente si provvede a coprire quei manifesti con nuove locandine targate PD che dichiarano il dissenso per ogni forma di fascismo. Ma la storia non finisce qui. Proprio sopra quelle locandine due giorni fa compaiono delle svastiche disseminate in tutti i punti in cui compare il manifesto del PD. Ma innanzitutto c'è da dire che non è il PD che fa coprire quei manifesti che inneggiavano al fascismo. Quelli vanno coperti, andavano coperti l'amministrazione comunale ha fatto bene a farli coprire perché controlegge. Dopodiché adesso abbiamo trovato come reazione e credo che sia davvero una stupidaggine delle svastiche su manifesti del PD. Credo che in questa città ma come penso in tutto il nostro paese non ci sia assolutamente spazio per rigurgiti neo-fascisti o neo-nazisti. Quindi penso che sia assolutamente una stupidaggine di qualche balordo. Restiamo alla politica pescarese. Ancora polemiche sull'assessore al commercio Giacomo Cuzzi che però dopo la richiesta di dimissioni avanzata da un gruppo di esercenti che si è costituito in associazione decide di rispondere in cassa intanto la fiducia del sindaco Marco Alessandrini. Un gruppo di esercenti chiede le dimissioni dell'assessore al commercio di Pescara Giacomo Cuzzi. La storia gira intorno ai rinvii di manifestazioni come la Notte Bianca che causa maltempo è stata rinviata ben tre volte e ad una serata dedicata esclusivamente allo shopping che invece vedrà protagonisti e artisti sul palco e dunque il timore di vedere sfumare guadagni e presenze. Questa la risposta del diretto interessato che da settimane si trova al centro delle polemiche. Sul commercio questa amministrazione ha prodotto un grande lavoro in questi due anni partendo da lavori strutturali che incidono fortemente sulla vita dei commercianti come l'abolizione della tassa sulle insegne la nuova opportunità del plurinegozio abbiamo programmato con le associazioni di categoria Pescara Shopping appunto per la notte del 19 agosto tanti eventi nel cuore della città per riaccendere la funzione commerciale e poi anche con delle iniziative abbiamo concordato la programmazione per quanto riguarda il periodo invernale da subito 70 mila euro per l'illuminare natalizie porteremo a Pescara saremo la terza città ad aderire al circuito di lucida artista cioè di fare del periodo natalizio e delle luminari un vero e grande evento diffuso e entro fine anno 50 mila euro per rilanciare la funzione del centro commerciale naturale lo faremo in sinergia con tutti ascoltando anche coloro i quali al di là delle associazioni di categoria si sono riuniti facendo delle proposte noi siamo disposti a lavorare a ragionare sulle proposte non siamo disposti a ragionare con coloro i quali invece di proporre delle idee puntano come primo tassello le divisioni di questo o quell'assessore così non si cambia non è così che si costruisce il futuro noi vogliamo costruirlo con tutti quelli che hanno disponibilità tempo passione e coraggio per darci una mano e per lavorare affinché possiamo scrivere tutto insieme delle pagine positive per la nostra città voltiamo pagina adesso ci occupiamo di pesca barche agli ormeggi per l'avvio del fermo biologico che per la nostra regione terminerà alla fine di settembre col diretti avverte ai consumatori di fare attenzione al pesce che viene servito nei ristoranti e di stare attenti anche alle etichette prima di acquistare il pescato stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta da pesca italiana lungo tutto l'Adriatico da Trieste a Bari a darne notizie col diretti impresa pesca che sottolinea come il provvedimento di fermo si allarga al tratto di costa da Pesaro a Bari per 43 giorni dopo che era già scattato lo scorso 25 luglio nel tratto da Trieste a Rimini per un periodo analogo in un paese come l'Italia che importa più di due pesci su tre nei territori interessati con il fermo biologico aumenta peraltro anche il rischio sottolinea impresa pesca col diretti di ritrovarsi nel piatto per grigliate fritture soprattutto al ristorante un prodotto straniero o congelato se non si tratta di quello fresco made in Italy proveniente dalle altre zone dove non è in atto il fermo pesca dagli allevamenti nazionali o dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche della piccola pesca che possono ugualmente operare il blocco delle attività in Adriatico spiega la col diretti terminerà il 5 settembre nel tratto da Trieste a Rimini e il 26 settembre nel tratto da Pesaro a Bari per effettuare acquisti di qualità al giusto prezzo il consiglio di col diretti è di verificare sul bancone l'etichetta che per legge deve prevedere l'area di pesca GSA dall'associazione arriva anche una critica però all'attuale format del fermo pesca inaugurato esattamente 30 anni fa che secondo col diretti è dimostrato di essere inadeguato poiché non tiene conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo mentre per la maggior parte delle altre si verifica in date differenti durante il resto dell'anno da qui la proposta di col diretti impresa pesca di differenziare il blocco delle attività a seconda delle specie mentre le imprese ittiche potrebbero scegliere ciascuna quando fermarsi in un periodo compreso tra il primo luglio e il 30 ottobre il ferragosto ha regalato alla nostra regione una storia davvero particolare un cane di nome Mucca che è salito su un treno a Termoli ed è sceso a Pescara dopo l'intervento di due ragazzi che l'hanno notata proprio sul convoglio allora andiamo ad ascoltare insieme questa storia una storia che ha del comico se non fosse che di mezzo c'è una cagnolina che non riesce a ritrovare la sua famiglia Mucca si chiama così la protagonista è una femmina di Bracco che il giorno di ferragosto è inspiegabilmente salita da sola su un treno a Termoli fino a quando due ragazzi qualche fermata più in là si sono accorti di lei e hanno cercato aiuto per ritrovare il suo proprietario giunti a Pescara Eliano e Costanza si sono rivolti alla polizia ferroviaria e grazie all'intervento del comandante Zaccone si è arrivati al nome una donna residente a Roma ma al numero indicato sul chip nessuna risposta ora Mucca si trova ospite presso il Dog Village di Montesilvano dove Carmelita Bellini offre ospitalità a ben 150 cagnolini persi o abbandonati le ricerche continuano ma per ora sembrerebbe tanto che la piccola stia trascorrendo le vacanze al meglio il comandante mi ha contattata per sapere cosa fare è stato contattato la polizia municipale dove non sono intervenuti e quindi abbiamo risolto diciamo con la tenacia del comandante che il cane aveva al chip risiede a Roma i proprietari non siamo riusciti a trovarli nemmeno oggi quindi sono già diciamo due giorni e siamo in attesa di poterla restituire e una cagnetta ha un nome molto originale Mucca e qui niente siamo in attesa di poterla ridare tutto qui e speriamo che possa tornare presto a casa andiamo avanti per il primo compleanno a due cifre la notte azzurra di Tottea di Crognaleto in provincia di Teramo si regala la presenza di Roberto Vecchioni tra i più apprezzati cantautori italiani appuntamento a partire da domani quando si inizierà con la pompieropoli dedicata ai più piccoli Paolo Lorenzetti con il presidente della Proloco parliamo di questo importante appuntamento della notte azzurra di Tottea e tanti gli eventi in queste due giorni eh sì quest'anno abbiamo dato un risalto maggiore visto che rigore il decennale della nostra manifestazione si inizia il 17 con un laboratorio per bambini di pupazze sempre attinenti a quello che è la musica popolare abruzzese perché poi alle ore 15 ci sarà l'inizio del festival del Saltarello così si abbineranno l'un con l'altro la sera si prosegue con il festival del Saltarello dimenticavo alle ore 16 c'è pompieropoli che l'abbiamo inserita all'interno di questo evento gli abbiamo una cornice per la nostra manifestazione un evento diciamo che ringrazio il comandante dei vigili del fuoco di Teramo e l'amministrazione del comune di Cronialet che hanno voluto così abbinarla alla nostra manifestazione il 18 si inizia lo stage di musica internazionale per poi farli cimentare la sera con i gruppi di folclore alle ore 13 e alle ore 15 inizierà la seconda tappa del festival del Saltarello e alle ore 22 tutti aspettano il notartista il concerto di Roberto Vecchioni una musica d'autore che senz'altro sarà di nostro apprezzamento non solo nostro ma anche di tutta la vallata della provincia di Teramo che invito tutti a essere presenti il 18 alle ore 24 ci saranno i fuochi per poi proseguire con l'orchestra del Saltarello e poi fino alla mattina con musica per giovani e quant'altro è un percorso ludico formativo su quello che possa essere l'attività che svolgiamo quotidianamente quindi ci saranno dei giochi adatti ai bimbi dove verranno affrontate alcune difficoltà ad esempio lo spegnimento di un principio di incendio la discesa di una pertica quindi si affronterà la sensazione del vuoto una parete d'arrampicata una sorta di sfida con l'equilibrio dove si andrà a attraversare una trave un ponte tibetano quindi i bimbi verranno messi un attimino alla prova su quello che possa essere quello che facciamo noi in sintesi per un futuro e quindi i bimbi rispondono sempre in maniera molto positiva a questa cosa perché vuoi che un po' amano il lavoro nostro e quindi di questo ne siamo molto orgogliosi e adesso apriamo la pagina dello sport in attesa della prima di campionato contro il Napoli il Pescara si gode la bella vittoria in Team Cup sabato sera contro il Frosinone nella partita d'esordio allo stadio Adriatico Ciocciari battuti per 2-0 con una doppietta di Verre il servizio buona la prima per il Pescara che nell'esordio assoluto stagionale all'Adriatico supera il Frosinone per 2-0 ottenendo il passaggio al quarto turno di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta di Giampiero Gasperini successo strameritato per i biancazzurri che oltre alle reti realizzate da Verre hanno costruito altre occasioni mancate di poco anche per le parate di Bardi in attesa dei rinforzi Oddo può sorridere perché seppur a sprazzi la sua squadra ha fatto vedere buone cose si comincia su un terreno di gioco davvero brutto a vedersi con 6.000 cuori biancazzurri sugli spalti in campo Oddo manda un pescara propositivo come punta di movimento l'avvio è degli ospiti con un colpo di testa al secondo minuto di Daniel Ciofani che incorna però al lato il pescara però prende subito alle misure i ciociari al quarto minuto e Caprari a mettere anche lui di testa al lato della porta laziale la gara è godibile al decimo ci prova l'ex celanese Dionisi con un bel tiro centrale il pescara con il passare dei minuti cresce all'undicesimo e Valerio Verre a fare le prove generali del vantaggio chiamando Bardi al salvataggio passano sette minuti e l'ex Perugino non sbaglia mettendo alle spalle di Bardi a due passi dal portiere Ciociaro il giocatore va poi ad esultare sotto la curva quasi a ribadire la voglia di restare in biancazzurro e scacciare le voci di mercato il pescara è galvanizzato dal vantaggio e continua ad attaccare e al ventitresimo e Zampano a mancare di un soffio la rete del raddoppio con un tiro violentissimo che sfiora il palo la squadra di Oddo attacca ancora e mette alle corde gli ospiti che rischiano di capitolare alla mezz'ora con Birachi che chiama Bardi alla parata il Delfino è scatenato e al trentaduesimo Caprari con Bardi fuori dai pali tenta un pallonetto trovando però la risposta dell'estremo gialloblu l'ultima occasione del primo tempo è per gli ospiti con un tiro però senza pretese di Frara che non crea problemi a Bizzarri nella ripresa si riparte con una ghiotta occasione per Ciofani che manca il pari in aria con una gerata di poco a lato al quinto azione insistita di Ben Ali che poi va a commettere fallo su un avversario al momento del tiro un attimo dopo ci prova anche Caprari che conclude debolmente ma in agguato c'è sempre lui Verre che al settimo va a segnare il gol del 2 a 0 mettendo la gara poi in discesa per gli Adriatici i biancazzurri con il doppio vantaggio controllano bene la gara di fronte ad un frosinone fragile al sedicesimo arriva poi il momento dell'ultimo arrivato Ghiomber che entra al posto di un buon coda al ventiquattresimo prima va a vuoto e per poco Caprari in mezza rovesciata non realizza il tris con Marino che impreca con i suoi dalla panchina al ventiseesimo si rivede Ben Ali con un tiro respinto da Bardi e poi al trentaquattresimo arriva la prima vera parata dell'estremo biancazzurro Bizzarri su punizione di Gusser gli ospiti provano a fare qualcosa ma mancano due occasioni con Dionisi al trentottesimo e al quarantacinquesimo con un'ottima parata di Bizzarri prima del fischio finale che regala al Pescara un meritato passaggio del turno è soddisfatto per la qualificazione il tecnico del Pescara Massimo Oddo che si gode anche la bella prestazione di Valerio Verre e di tutti i nuovi innesti ascoltiamolo sì ben augurante anche se non c'entra niente nel campionato però da queste partite si possono trarre i primi i primi concetti quello che si riesce a vedere insomma oggi sono sono contento perché ho visto insomma la continuazione di quello che abbiamo iniziato l'anno scorso la squadra ha giocato ha fatto molto bene credo anche con qualche difficoltà per mancanza di ruoli però sulla base del lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso cioè di lavorare sui concetti poi puoi spostare gli uomini ma il risultato non cambia certo ognuno con le proprie caratteristiche però Caporari ha fatto la punta Verre ha fatto il trecoacchista quindi sono contento sono contento per i nuovi che hanno fatto molto bene e quindi le indicazioni sono sono molto positive ma io non credo molto a queste cose perché poi alla fine o sei stupido e allora vai contro i tuoi interessi oppure dai tutto in campo il giocatore quando va in campo si deve divertire lui oggi si è divertito e ha fatto bene insieme ai propri compagni poi io faccio un allenatore non sono il presidente il direttore sportivo l'amministratore delegato di questa società io posso dare un giudizio tecnico sui giocatori posso decifrare quanto sia importante un giocatore in questa squadra e posso consigliare poi di più non posso fare ma i nuovi si stanno applicando tutti oggi ha fatto molto bene partire da Bizzarri e Gomber quando è entrato a Coda che è praticamente il nuovo e Cristante insomma ha fatto anche Gasbrug ma ha fatto molto molto bene quindi sono contento perché perché sono tutti giocatori calcisticamente molto intelligente e quando sei intelligente calcisticamente impari in fretta ieri a Vasto Massimo Oddo ha ritirato il premio Petroro forse possiamo vedere anche le immagini della consegna del premio il tecnico ha detto sono contento di essere qui a Vasto per la consegna di un premio così prestigioso sono onorato di riceverlo e ringrazio tutti è un premio che mi si addice perché corrisponde al percorso della mia vita sono stato anch'io un emigrante ma del calcio questo ha detto all'Arena delle Grazie l'allenatore del Pescara partecipando alla festa del ritorno alla 41esima edizione nel corso della quale gli è stato consegnato il premio Silvio Petroro e un assegno di 5 mila euro che sarà devoluto alla sua onlus per opere di beneficenza torniamo alle interviste dopo gara per quanto riguarda la partita di Team Cup andiamo ad ascoltare Brugman una storia importante permette di superare il turno di Coppa Italia ma anche ben augurante perché ci sarà il Napoli fra 10 giorni dunque questa sera avete già dimostrato anche a livello fisico di essere a buon punto sì sì si è lavorato si è lavorato tanto abbiamo corso tanto la preparazione è stata intensa e penso che ha servito molto questa prima partita vediamo è una partita difficile sappiamo e pensiamo che con il nostro gioco con la nostra voglia di dimostrare di rimanere in Serie A possiamo ottenere dei risultati a livello personale di dimostrare ancora che posso rimanere in Serie A e dimostrare alla gente di Pescara il giocatore che sono stato e che ho dimostrato per tante tante partite io volevo ritornare volevo prendere il mano nel centrocampo e penso che sono sono un buon punto e una volta che prendo il posto non lo voglio lasciare e si chiusa la campagna abbonamenti del Pescara con oltre 8300 tessere staccate un dato che la società considera soddisfacente se si considera l'accelerazione nel finale il fatto che è ancora in corso il calcio mercato nell'ultima stagione di Serie A furono poco di poco di più di 7200 gli abbonamenti venduti intanto il club comunica che dalle 10 di oggi è aperta la vendita dei biglietti ma solo in prelazione per la gara la prima di campionato tra Pescara e Napoli in programma domenica 21 alle 20.45 allo stadio Adriatico Cornacchia siamo al MotoGP il pilota vastese Andrea Ioannone partito dalla pole position ha vinto il gran premio d'Austria di MotoGP battendo il proprio compagno di squadra Andrea Dovizioso alle spalle delle due Ducati la Yamaha di Orge Lorenzo e quella di Valentino Rossi solo quinto il dominatore fin qui del mondiale Mark Marquez su Honda sempre in testa alla classifica dei piloti nella lotta in famiglia Ducati hanno avuto la meglio facendo la scelta di montare le gomme morbide nonostante le controindicazioni della Michelin Dovizioso invece aveva accolto il consiglio del produttore di gomme calzando le dure e quindi la scelta del pilota abruzzese ha pagato e adesso l'ultima notizia per quanto riguarda la pagina sportiva è dedicata alle Olimpiadi di Rio 2016 storico risultato per il beach volley azzurro sulla spiaggia di Copacabana il duo composto dall'ortonese Paolo Nicolai e da Daniele Lupo si è qualificato per la semifinale del torneo olimpico battendo ai quarti la coppia russia Liamin-Barus Basuk e questa era l'ultima notizia per il nostro giornale il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 19 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata